bella picciotti sono Narciso e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua raga nel survival game di Spain pvp siamo su Alaskan Village e vediamo di prenderci tipo un'arma da questa cassa si come no ma proprio quando mai in ogni caso e quest'oggi parlo del mio primissimo tentativo che ho fatto oggi appunto che praticamente è avvenuto nella mappa aspettate un attimo perchè mi è perso di vedere un gatto no non è vero ok appunto ero nella mappa di Demos Breeze ero su Demos Breeze primo tentativo di wreck mi faccio il mio chest root si infatti ho visto uno bene cazzarola please bro don't chase me no me ne devo andare piglieti le casse ok forse sono riuscito a liberarmene però devo pigliarmi un'arma tipo alla svelta devo trovare un'arma alla svelta non pigliare perchè pigliare ok dove siamo ah non ci sta il tizio ok me l'ha perso vabbè ero su su Demos Breeze appunto il mio primo tentativo di wreck faccio il tutto il chest root vado al villaggetto delle fiamme hashtag villaggetto delle fiamme raga perchè ormai cioè se non c'è il villaggetto delle fiamme non c'è niente e quindi che succede dopodichè noto che mancano tipo quando mancava aspetta tipo due minuti si mancavano due minuti a refill decido di ingamminarmi per andare verso il centro ci vado e tipo in londananza già noto un team da tre ok voi lo sapete io sono sempre andato iolo questa volta non l'ho fatto cioè praticamente mi sono l'ho pensata ok di solito le cose non le penso tipo vado sempre iolo mentre quest'oggi l'ho voluta ragionare un pochettino di più benissimo che faccio mi shifto mi shifto per tipo un bel po' forse due minuti il tempo del refill loro prendono tutto e dopodichè che fanno salgono sulle liane del centro per andare tipo a piarsi il resto del root comunque vanno là io decido di sfruttare l'occasione di prendere la palla al balzo per killare almeno uno dei due uno dei tre scusate ci riesco mi killo uno dei tre e giustamente la barca andando non mi serve su sta mappa almeno che non hanno messo un una cosa con l'acqua ma no appunto gli altri naturalmente mi devono iniziare a cesare perché essendo in team raga che fa killo uno gli altri due mi cesano quindi mi cesano e che succede io ero praticamente bloccato perché loro mi avevano tagliato e niente dico vabbè ho lava o la spacca tipo vado in un punto con la lava aspetto che arriva il tizio messo peggio lo diciamo volevo buttare in acqua e invece lo killo in aria cioè lo killo tipo a mezz'aria ed è una kill dopo quella che ho fatto al tizio sulle liane ok poi che succede decido di scappare giustamente perché avevo pochissima vita il tizio può compare dietro e quindi decido di andarmene il cancro che rimane giustamente il terzo membro del team tumore di merda che deve morire mi random team al deathmatch perché non gli è bastato random teammare ben due volte perché non era un team su ts e robe del genere ma era un team a random raga perché si scrivevano in chat e quindi si mi ha random team ho perso poi il tizio che ha random team è morto e io raga ho goduto come un porco perché minchia se lo deve beccare tutto il tumore cristo dio già random team in tre poi random team pure al dm allora o sei più di puttana o hai il tumore molto probabilmente entrambi poi per il resto raga niente vediamo un po' di continuare sto game qua ci sta uno messo fin troppo bene ok bella dammi qua magna e cambiamo gaphole non ne posso fare vabbè dai ci accontentiamo le frecce andando di spawn giusto così io raga devo stare attento posso farmene in altre 4 però no non voglio utilizzare lo stick what raga sta cosa succede una volta ogni 365 giorni serio mica ci ho trovato ok ho visto che ci sono è inutile tenere le robe bruciamo sicuramente ci sarà un altro random team perché in chat boy stanno spammando messaggi satanici si dai conduriamo le cavo miglia che culo che ho avuto raga ma che apple no eh ma che apple no però che culo immenso proprio ho visto uno forse aspettate che provo a fare tipo un po' di f3 più no non ci sta nessuno nelle vicinanze ok quindi si quella lì è la storia del mio primo tentativo di rec poi si ce ne sono state altre di di storielle sempre per team perché oggi ho incontrato soltanto team e tipo un hacker che mi sono anche killato però poi per il resto tutti team e niente ancora sto qua a reccare perché perché si ci sta e si mi sono anche un po' rotto i coglioni però raga lo devo fare cioè non è un obbligo ma mi piace farlo e quindi lo faccio vediamo un po' vediamo se stavolta qualcuno c'è no 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 per favore refill metta qua vediamo un po' raga questi qua mi puzzano ho paura di questi qua tutti e quattro ho paura di tutti e quattro credetemi ottimo ok ok devo bruciare soltando la roba in iron va soltando la roba in iron asper troppo beh si oh giusto ho bruciato gli stick ottimo complimenti allora dove me ne posso andare mi fado a fare il root no andiamo di qua andiamo di qua ho un brutto bruttissimo presentimento ma proprio bruttissimo pessimo ho stra paura raga che siano tutti in dim ok spero che non sia così spero dammi qua buono il caso allora mi serve un altro dia però un dia spero di andare per di qua oh oh fuori no vabbè non ti ho bisogno ottimo fuori uno andiamoci a fare i boots andiamoci a fare i boots non so se stessi citando perchè mi ha tirato delle hits è strano però vabbè cazzo se ne frega è morto ok no raga devo farmi i boots so che mi random team ma però ne ho di bisogno tre gapple boh spero che vada tutto bene anche se non andrà mai bene però ok pregheppoliamo pregheppoliamo si mettiamo tipo fns e spammiamoli no 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 non baserdate io lo sapevo raga io lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo che sarebbe andato a finire così oh sei mio mate ho vinto dopo tipo 14 tentativi ho fatto un bel game questo mi è piaciuto si 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 gg gg vediamo quanti kill ho fatto solo 4 ma mi vanno più che bene quelle 4 kill raga dopo un bel po' di tempo che ci provo a reccare finalmente ce l'ho fatta gg per me comunque raga io spero che questo video vi sia piaciuto in caso fosse così invito a lasciare un like un commento e a iscrivervi da Natice è tutto ciao a tutti